Continua la tolleranza zero da parte del comune di Pescara verso il degrado urbano e soprattutto verso i bivacchi in centro. Questa mattina sei agenti del Giona della Polizia Municipale, il gruppo di intervento operativo del nucleo antidegrado, agli ordini del Maggiore Danilo Palestini nel corso di un'operazione iniziata attorno alle 7.30, hanno sgomberato l'area del lungo fiume di Pescara nella zona della ex Draga al cui interno e in alcuni accampamenti di fortuna in condizioni di degrado e soprattutto igienico-sanitarie precari sono stati trovati sei cittadini stranieri di cui tre polacchi, due rumeni e una sesta persona in corso di identificazione perché senza documenti. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della squadra volante della Questura. Nelle scorse settimane, così come annunciato in una conferenza stampa dal neoassessore alla Polizia Municipale Gianni Teodoro, si è dato il via ad una serie di controlli e operazioni di sgombero nelle aree di risulta della stazione ma anche in altri quartieri della città di Pescara. Noi siamo coerenti quindi abbiamo detto sin dall'inizio che la torrenanza usata che verrà usata sarà pari allo zero e così stiamo facendo però abbiamo usato anche un'altra espressione importante un pugno di ferro in un guando di velluto. Noi vogliamo che queste persone se hanno bisogno di aiuto ecco bene basta che loro lo dicano perché noi vogliamo aiutarli. Noi attraverso anche i servizi sociali abbiamo le strutture necessarie per poter ricoverare queste persone però attraverso le regole, le regole del buon vivere quindi vogliamo rispetto delle regole che diano garanzia del decoro urbano e anche della legalità che è il tetto, l'architrave su cui ogni cosa poggia.